Buonasera e benvenuti ad Un Pass per il benessere. Il titolo della puntata è La scienza che allunga la vita nell'era dell'epigenetica. Do il benvenuto anche al nostro ospite Giorgio Terziani. Buonasera, buonasera Loretta. Visit professor in discipline del benessere alla St. George School di Brescia, responsabile di un progetto di divulgazione medico-scientifica sull'importanza dell'ossigeno, autore di tre libri, insomma tante cose, Giorgio, ma l'argomento di oggi, la prima domanda che ti faccio è proprio legata al titolo. Perché diciamo che La scienza che allunga la vita nell'era dell'epigenetica? Perché la scelta di questo titolo? Loretta, grazie per questo nuovo invito e questa possibilità di divulgare queste preziose informazioni che partendo dall'epigenetica è proprio una vera rivoluzione nel campo della salute, della medicina e della prevenzione. Beh, epigenetica perché abbiamo una vera e propria responsabilità nei confronti delle future generazioni. Noi oggi sappiamo, che la scienza ha dimostrato, che la salute è una responsabilità, ma è anche un'eredità sociale. Quindi dovremmo chiederci cosa vogliamo fare e dove vogliamo essere domani per i nostri figli. Cosa stiamo facendo? Quale scelte stiamo facendo per capire cosa può essere dannoso o può essere utile alle future generazioni? Se noi guardiamo questa importante diapositiva che è proprio l'eredità, vedete l'incontro di due cellule dal liquido seminale, dallo spermatozoo alla cellula, quindi all'ovulo, quando si incontrano queste due cellule il dono della vita, questa responsabilità straordinaria, questa magia, perché poi noi siamo qua grazie a un atto d'amore. Bene, lì scarichiamo un'app, cioè tutta la memoria di tutto quello che hanno fatto nella loro vita, non solo i nostri genitori, ma anche i progenitori. Ma chiediamoci, cosa stiamo facendo noi oggi per donare salute ai nostri figli? Se questo è vero, noi sappiamo che l'epigenetica viene trasmessa alla seconda, terza, quarta generazione. In quel momento che scarichiamo quell'app abbiamo dei grossi problemi. E se andiamo avanti con le diapositive, possiamo vedere che questo è legato a un impatto ambientale ormai devastante per la nostra salute. Basti pensare a cosa mangiamo, cosa beviamo, che respiriamo. Tutto questo è veramente carico di tossine ambientali. Se noi ci chiediamo un attimo quanto è grave l'inquinamento dell'aria che respiriamo, del cibo che mangiamo, la domanda è quanto è grave? No, non l'ho detta, è gravissimo, è un grosso problema. Se ci facciamo la domanda cosa facciamo oggi per risolvere i problemi dell'inquinamento, la domanda è forse la raccolta differenziata, scegliamo un po' i cibi migliori, ma in realtà continuiamo a respirare l'inquinata. Basta pensare che la pianura padana è uno dei luoghi più inquinati in assoluto a livello mondiale. Basti pensare che ci sono oltre 200 terre dei fuochi da monificare conosciute. Ecco che sempre più abbiamo l'infertilità, per esempio. Pensate che gli andrologi hanno detto di congelare il liquido seminale ai ragazzi di 18 anni. Questa è una cosa gravissima perché non si risolve il problema dell'inquinamento in questo modo, è follia. Quindi dovremmo incominciare a dire, a occuparci della salute dei padri e delle madri prima del concepimento. Dove, naturalmente, con tutte queste malattie che sono in aumento, soprattutto nei bambini da zero a due anni, perché? Perché i padri e le madri sono sempre più malati, cioè non hanno più un fisico sano, forte, quella che chiamavamo sana e robusta costituzione, che esisteva una volta. Oggi non se ne occupa più nessuno di questo. E sembra normale una cosa, una moda fumare, adesso ci sono anche quelle, le sigarette elettroniche. Ecco, tutto questo danneggia pesantemente le nostre cellule, i nostri tessuti e la nostra salute. Ecco, infatti bisogna proprio partire dalle cellule, bisogna migliorare la salute partendo da lì. Sì, dovremmo partire da questa consapevolezza che noi siamo soprattutto legati alla salute delle nostre cellule. Le nostre cellule, poi lo vedremo magari con la prossima volta, parleremo di ossigenazione, parleremo di mitocondri. Ma qui parliamo di epigenetica, cioè se noi guardiamo la prossima diapositiva, vediamo che in realtà tutto quello che noi mangiamo, beviamo, respiriamo, la carenza di ossigeno condiziona, questi sono fattori epigenetici che possono danneggiare o essere utili alla funzionalità delle nostre cellule. Quindi in realtà l'epigenetica è una programmazione, è il software della vita. Pensate a un computer, senza software non funziona. Quindi hardware e software. Questi sono magari esempi semplici, però proprio parte da lì. Che informazioni stiamo dando alle nostre cellule, alla nostra salute? Cosa stiamo facendo per le future generazioni? Pensate quanto sarebbe importante conoscere quale sistema ha bisogno di essere messo a posto. Magari un problema di sonno, un problema del metabolismo, un problema legato al sistema gastrointestinale, cardiocircolatorio, immunitario. Ma quali sono i fattori che possono essere utili per migliorare questi sistemi? E magari se noi approfondiamo e andiamo avanti, vediamo che i risultati sono questi. La terrosclerosi è anche una malattia epigenetica, vuol dire trasmessa dai padri e delle madri. Quindi la nostra salute non vale solo per il cardiovascolare, ma vale anche per la fibromialgia, la stanchezza cronica. Abbiamo scritto un libro insieme a Francesco Caritano, proprio sulla fibromialgia, una sfida, dove abbiamo parlato proprio di tutti quei fattori, nutraceutici, di stile di vita, ambiente, sistema gastrointestinale, le nostre emozioni. Ci sono dei capitoli veramente importanti. C'è un libro proprio uscito, il 10 settembre è uscito questo libro. L'abbiamo presentato a Bologna al congresso internazionale, dove erano presenti 650 medici a Bologna. E' veramente un libro straordinario anche proprio per il pubblico, quindi è di facile lettura per tutti. Ecco, noi mangiamo per produrre idrogeno, respiriamo per avere l'ossigeno. Dalla combinazione di ossigeno e idrogeno, l'energia per la vita. Ma cosa mangiamo e cosa respiriamo? Noi dovremmo preoccuparci di apportare il giusto ossigeno dentro le nostre cellule. I mitocondri lo vedremo nella prossima puntata, perché le patologie iniziano a livello cellulare. Cioè il soft della nostra vita, ma al fine, lavora dentro le nostre cellule. La membrana cellulare, la lipidomica, l'equilibrio degli acidi grassi essenziali, il giusto apporto di amminoacidi, il giusto apporto di vitamine, di minerali. E se noi vediamo quanto il ruolo delle vitamine, poi dei minerali dopo, oppure il conoscere nell'altra diapositiva quanto sia fondamentale conoscere l'impatto ambientale per la salute, non solo nostra, nella nostra vita, ma le sostanze chimiche, gli idrocarburi, le radiazioni, i metalli tossici. I metalli sono neurodegenerativi, quindi creano veramente un problema enorme alla funzionalità delle nostre cellule. E se noi partiamo da questo, abbiamo ormai, la scienza lo ha dimostrato. Il time nel 2010 uscì con questa copertina, il DNA non è il tuo destino. Quindi tutte le scelte che faremo, e che fate, lui diceva, tutte le scelte che farete prima della gravidanza condizionano la salute delle future generazioni. Quello che farai in gravidanza condiziona la salute dei tuoi figli. Sono scelte importanti. Tra l'altro è anche tutta una questione di equilibrio, perché lei ha parlato di tantissimi fattori che contribuiscono alla nostra salute. E noi in generale possiamo essere in equilibrio senza degli aiuti che ci arrivano per esempio dalla, penso, la nutraceutica. Sì, dalla nutraceutica. Poi lo vedremo quanto i nutraceutici sono importanti perché integrano le carenze che noi non assumiamo dalla dieta. Perché attenzione, anche lì ci vuole equilibrio perché poi parliamo solo di integrazione e questo non va bene. Ma ancora di più, partendo dalla presentazione, non si parla abbastanza di emozioni. Il grande Bruce Lipton dice la tua mente è più forte dei geni. Quindi la mente è più forte dei geni. Ma cosa pensiamo? Noi siamo non solo quello che mangiamo, ma anche quello che pensiamo. Siamo la storia che ci raccontiamo. Siamo come noi reagiamo a quello che ci accade, allo stress della vita. Anche questo deve essere tenuto in considerazione perché deve essere equilibrato. Ecco, l'epigenetico è proprio lo studio dei cambiamenti, dell'espressione genetica che non sono causati da mutazioni genetiche che possono essere ereditabili. Quindi il rimodellamento della cromatina. Ecco che oggi abbiamo la possibilità di mappare tutti questi fattori con una tecnologia straordinaria che si chiama S-Drive, l'oretta. C'è una tecnologia che in solo 12 minuti, partendo dal bulbo del capello, ti permette proprio di mappare tutti questi fattori e permette di risincronizzare la funzionalità delle nostre cellule. Partendo proprio da questo, da una scelta consapevole dello stile di vita. E' chiaro che tutti noi vogliamo andare a destra, ma possiamo cambiare città, possiamo cambiare lavoro, possiamo andare a casa. E' difficilissimo. Allora dobbiamo rafforzare il nostro sistema immunitario e rimettere a posto il nostro ritmo sonnoveglia, incominciando andando a dormire entro le 10, le 11 della sera. Perché è lì poi dalle 10 alle 3 di notte che noi rigeneriamo, disintossichiamo, depuriamo il nostro organismo con un'attività mitocondriale specifica. Non dimentichiamoci che il mitocondrio è un riprogrammatore epigenetico della cellula. Quindi la nostra salute dipende anche dalla salute dei nostri mitocondri che sono danneggiati anche dai campi elettromagnetici. Basti pensare al cellulare, chi dorme col cellulare in camera è dannosissimo come il wifi acceso durante la notte, come stare sempre sottoposti a campi elettromagnetici del wifi, wireless, bluetooth. Oggi è una moda. Ma attenzione che la moda dobbiamo assolutamente accettarla in modo responsabile. Perché? Perché noi dobbiamo mettere a posto l'orologio biologico. Prima o poi noi sappiamo che nasciamo e moriamo. Queste sono le cose sicure della vita quando si nasce prima o poi. Qual è l'aspettativa di vita, la qualità della vita? Grazie all'epigenetica noi possiamo riprogrammare l'invecchiamento attraverso questo orologio epigenetico fatto di tanti fattori di cui abbiamo parlato. Cosa mangi, cosa bevi, cosa respiri, l'ambiente in cui vivi, ma soprattutto l'inquinamento che ti sprogramma. Sprogramma la vita già nella pancia della mamma a livello fetale. E noi possiamo vedere dopo questa diapositiva che proprio gli studi hanno dimostrato che l'inquinamento atmosferico ha effetti sui marcatori epigenetici, cioè sull'accorciamento dei telomeri che sono proprio legati alla nostra aspettativa di vita insieme al DNA mitocondriale. Quindi salute delle cellule, telomeri, mitocondrio, sono fondamentali. E gli studi ormai l'hanno dimostrato. Andiamo avanti. Ecco, la rimetilazione del DNA. Come possiamo fare? Se noi andiamo avanti con la diapositiva, vediamo che già la scienziata Blackburn ha dimostrato il fatto che ci sono vari fattori che sprogrammano la nostra vita a livello epigenetico, accorciano la vita, quindi accorciano i telomeri, e ha preso il premio nuovo alla medicina. Se andiamo avanti, vediamo quali sono questi fattori. Lo stress cronico, la depressione, lo stress prenatale, i traumi nell'infanzia. Per esempio, si parla dei primi mille giorni di vita, ancora di più, meglio, duemila giorni di vita. Pensando prima, quando era nella pancia. Dal concepimento ai primi duemila giorni di vita. Sette anni. Ecco il discorso che poi facevo anche prima della trasmissione. Ma vedete, l'abuso, la bassa educazione, le carenze, l'inquinamento, il fumo, la dieta sbagliata, l'obesità. Tutto questo accorcia i telomeri. Danneggia l'aspettativa di vita. Ecco perché bisogna controllare l'omocisteina, che è uno dei biomarker più importanti per il rischio cardiovascolare, tumorale, nel diabete. Insomma, l'omocisteina è legata poi allo stress ossidativo, all'infiammazione. E vedete, ci sono tutti quei fattori. E a proposito di questo, vi annuncio una novità veramente mondiale. questo test epigenetico, dei fattori epigenetici, è più corretto, dei fattori epigenetici di interferenza o che possono essere utili a livello cellulare, è entrato in un programma proprio sulla longevità. Vedete, il segreto della longevità in Sardegna, quindi nella blu zone, dove ci sono i centenari, proprio per studiare quali fattori possono, hanno contribuito o possono essere utili all'allungamento della qualità della vita e l'aspettativa di vita. Questa è una novità. Questa è una ricerca molto importante, questa che ci sta mostrando che, tra l'altro, è stata seguita dall'Università di Sassari, giusto? Sì, assolutamente. Nell'Oliastra, Università di Sassari, Colmur, questo è un'iniziativa e una novità assoluta nel campo della prevenzione. Perché noi siamo abituati a fare le analisi del sangue che sono importantissimi che qualsiasi medico prescrive e nello stesso tempo, però, non sappiamo le cause che hanno creato quel problema che poi viene fuori da un'analisi qualsiasi. Noi dobbiamo capire cosa ci sta danneggiando. La medicina ufficiale spesso indaga il sintomo e cura il sintomo invece che andare a quello che c'è all'origine. Esatto, Loretta. Quindi, grazie proprio a questo dispositivo che è entrato in questo progetto, noi possiamo finalmente fare prevenzione. Poi la diagnosi la fa il medico, le cure la dà il medico, però noi cosa possiamo fare? Evitare la sofferenza, evitare la malattia, perché quando poi una persona si ammala è troppo tardi, quindi farmaci, sappiamo, chirurgia, benvenga per salvare la vita, sono fondamentali queste cose. però io dico sempre a 80 anni voglio fare una bella rampa di scale da solo, non essere portato, no? Perché voglio godermi la vita e godermi magari dei nipoti, godermi la famiglia. Questo penso che sia poi le cose a cui aspiriamo quando invecchiamo. E ecco perché dobbiamo lavorare sul sistema immunitario, andiamo avanti, ed ecco l'epigenetica. Quindi, la riprogrammazione delle nostre cellule, rimodellando la cromatina. Andiamo avanti, magari abbastanza anche veloce, ecco la salute dei padri e delle madri proprio prima del concepimento. Quindi le cellule devono essere sane per differenziarsi in maniera sana e mettere nel mondo bambini sani. Ed il regalo che tua madre non vorrebbe mai farti l'oretta è questo. Cioè, sono i disturbi endocrini, le sostanze chimiche, il particolato ultrafine, i metalli pesanti. Pensa, tutto questo viene trasmesso a livello fetale, nella pancia della mamma. dove sprogrammiamo la vita. Perché queste sostanze sono incompatibili con la vita. Ecco che poi nascono sempre i bambini più malati. Perché vuoi un figlio non devi fumare, attenzione ai tatuaggi che sono pericolosi, attenzione all'ambiente dove vivi, allo stress. 500.000 morti premature in Europa a causa dell'inquinamento. Questi bambini non li abbiamo fatti neanche nascere. E se noi approfondiamo questo, vediamo che l'Istituto dei Medici per l'Ambiente proprio dice attenzione, tutto l'inquinamento poi passa nel feto e durante l'allattamento. E quindi ecco quello che dovremmo fare. Incominciare a andare a parlare nelle scuole, negli asili, nelle famiglie che attenzione a comprare cibo, spazzatura, passami questo termine, è pubblicità e vivere in un ambiente malato. ma se noi andiamo avanti possiamo vedere che pochi sanno che il fumo di una schieretta inquina secondo l'Istituto di Tumori di Milano quanto 15 macchine diesel. Ora, questo è un problema. Pensa a quanto abbiamo fumato nelle case, nei ristoranti, negli aerei, negli hotel. Anzi, dave anche fastidio quando dicevi per favore non fumare mi dà fastidio perché c'era un menefreglismo assoluto. Oggi sappiamo che il fumo fa male, il fumo è pericoloso, sprogramma la vita insieme a tutte le altre sostanze nocive. Una sola sigaretta inquina 15 volte più di un'auto. Se noi andiamo avanti andiamo in carenza di ossigeno. Poi lo vedremo. Sì, faremo un bel approfondimento su questo tema nella prossima intervista. Quindi, questo è 140.000 sostanze chimiche. i dati sono chiari. Tra l'altro ognuno di noi Giorgio mi scusi non volevo metterlo un po' ma penso che stessimo andando in quella direzione. Può sapere tramite delle analisi dei test specifici con magari quali inquinanti ha più problemi perché magari uno non immagina di essere vicino a una fonte di inquinamento particolare piuttosto che un'altra comunque che il suo fisico ha assorbito più una sostanza tossica di un'altra. Lei spiegava l'analisi dei capelli. Assolutamente abbiamo oggi dei test predittivi preventivi ma abbiamo tantissimi test c'è lo stesso sullo stress ossidativo il stesso sulla lipidomica e tutti i biomarker della metabolomica che sono veramente importanti però quali quale sostanze mi stanno danneggiando quali interferenze quale inquinamento mi sta danneggiando cosa hanno bisogno le mie cellule per evitare magari che mi esca un'analisi o una metabolomica sbagliata devo capirlo ecco che questo test che è un abbiamo un test che ci permette proprio di lavorare in modo personalizzato e individuale perché perché tutte le sostanze hanno una lunghezza d'onda e fanno parte dello spettro dall'ultravioletto all'infrarosso se noi conosciamo la frequenza e lo spettro la lunghezza d'onda di quella sostanza noi risaliamo alla sostanza e grazie alla nuova tecnologia la tecnologia S-Drive che è una tecnologia tedesca pensate ci sono voluti oltre 16 anni per mettere a punto questa tecnologia oggi abbiamo sul mercato questa si chiama proprio S-Drive che ci permette di conoscere la vibrazione e la frequenza di quelle sostanze contenute nel bulbo del capello il bulbo del capello è un biomarker che archivia tutte le informazioni lo sapete è usato per i metalli pesanti per le droghe anche per chi magari fa uso di sostanze stupefacenti usano il capello in assa oppure per valutare se una persona è esposta a sostanze nocive l'esposoma della persona e grazie proprio a questa tecnologia se andiamo avanti archivia anche le tossine pericolose i metalli pesanti grazie a questa tecnologia oggi oltre a sapere attenzione dove vivi lavori e dormi abbiamo anche la possibilità di sapere magari la salute degli astronauti perché perché il capello è proprio un'antenna tra il micro e il macroambiente quindi archivia tutte queste informazioni queste informazioni oggi vengono lette da questa tecnologia che si chiama S-Dry vedete la NASA utilizza il capello per la salute degli astronauti viene utilizzato per i disturbi se andiamo avanti per i disturbi psichiatrici questo biomarker per il cortisolo per lo stress in questo caso viene fatto viene utilizzato per una mappatura epigenetica dei fattori che possono interferire o essere utili al metabolismo delle cellule la nostra salute parte da lì quindi si indaga un po' quella che è la predisposizione anche sì quello è un test del DNA che è importantissimo ma lo fai una volta nella vita invece se tu sei in grado di seguire essere guidato per esempio questo test si fa ogni 90 giorni tu puoi essere guidato con oltre 800 marcatori chiave per capire quello che ha bisogno la tua cellula o la danneggia naturalmente tutti i certificati compreso l'FDA che ci dice attenzione questo non è un test di diagnosi la diagnosi la fa il medico non c'è nessun test che può dire faccio questo test e faccio la diagnosi la diagnosi la farà il medico ma questo test è un test di supporto di screening per migliorare l'anammesi e pensate che questo report viene consegnato in soli 12 minuti Loretta 12 minuti prelevi il capello lo metti sulla tecnologia e in solo 12 minuti puoi conoscere quello che ti danneggia o quello che è utile quindi qual è il vantaggio enorme il vantaggio è che innanzitutto questo messaggio lo sai lo lascio sempre perché è un messaggio di speranza per l'umanità se noi ci prendiamo a cuore delle persone attraverso l'informazione il creare cultura su quello che poi ci permette di migliorare la qualità della vita delle persone noi siamo e facciamo facciamo un passo avanti enorme nel poter prevenire certe situazioni patologie danni a livello stanchezza cronica fibromialgia oppure recuperare tra un allenamento e l'altro negli sportivi quindi ottimizzare la qualità della vita ecco questo dispositivo la tecnologia S-Drive ti permette di risincronizzare le tue cellule con te stesso e con l'ambiente dove vivi naturalmente poi bisogna agire quindi scegliere i cibi sani fare attività moderata scegliere un'acqua migliore possibile avere pensieri positivi che ci permettono proprio anche di stare bene con noi stessi sappiamo quanto è importante la meditazione leggere un buon libro vedere un buon film che ti ti lascia no ti fa stare bene le buone relazioni l'amore per gli altri come suggerisce questa slide brava ricircondarci di persone che possono farci stare bene ma se noi non stiamo bene con noi stessi non treveremo mai la felicità negli altri quindi la nostra parte sempre da noi dice ama i tuoi cari ma stai coi tuoi pari cioè con la persona che vuoi diventare e vuoi essere e prima di tutto bisognerebbe essere di esempio per i nostri figli e le future generazioni questa è l'epigenetica certo insomma bellissima questa conclusione ultimi minuti le chiedevo di riprendere l'argomento che tratteremo nella prossima intervista di darci qualche breve informazione in modo che i nostri telespettatori conoscano il prossimo tema il prossimo tema mi sta molto a cuore perché è una passione che è un argomento che affronto ormai da 25 anni che è l'importanza dell'ossigeno dico sempre facciamo un esercizio insieme tappatevi il naso e la bocca per 10 minuti nessuno lo fa perché perché senza ossigeno senza respirare si muore quindi l'ossigeno è vita ecco che parliamo del ruolo e l'importanza dell'ossigeno per la nostra salute la nostra vita e per la prevenzione ecco poi vedremo anche capiremo come si fa insomma avere la giusta quantità di ossigeno nelle nostre cellule molto volentieri di mitocondri quindi io ringrazio Giorgio Terziane per essere stato con noi ringrazio anche i nostri telespettatori avete capito quale sarà l'argomento della prossima puntata quindi continuate a seguirci insomma ci sono tante cose interessanti da scoprire da approfondire grazie al nostro ospite qui in studio con noi oggi e nella prossima puntata grazie grazie Loretta buon proseguimento a tutti voi grazie a tutti